Siamo qui per ricordare la figura di Francesco Primo d'Este, il più celebre duca di Modena, nonché una delle personalità più significative del Seicento europeo. Sotto il suo regno, lo stato estense conobbe una notevole fioritura artistica ed un rinnovamento in ogni ambito. Ne parliamo con Carlo Previdi, autore del nuovo libro Francesco Primo d'Este, il principe eroe, Edito del Fiorino, l'ultimo dei suoi saggi di carattere storico. Allora, che ruolo ha avuto Francesco Primo sul piano internazionale, sia dal punto di vista politico che artistico? Francesco Primo, da un punto di vista internazionale, sia in contesto politico che artistico, è stato un riferimento per l'Europa del Seicento, un vero e proprio riferimento. È stato un sovrano che si è idealmente incarnato nel proprio stato e ha influenzato sovrani di rilevanza assoluta come Luigi XIV di Francia, il Re Sole, e Filippo IV di Spagna. Per ciò che riguarda Luigi XIV, per esempio, mi sembra che si possa tranquillamente dire che costui abbia preso come riferimento Francesco Primo per alcune cose assolutamente rilevanti. Tra l'altro entrambi si avvalgono, Francesco Primo e Luigi XIV, degli stessi architetti. Mi riferisco a Borromini, a Bernini. Va rilevato appunto come Luigi XIV svolga la sua azione dopo Francesco Primo, quindi è probabile che sia stato ispirato dal Duca modenese. Un'altra coincidenza evidente, a mio parere, forse la più evidente, è il fatto che a un certo momento, nel 1651, il Bernini realizza lo straordinario busto in cui viene ritratto in maniera ammirabile Francesco Primo e, a distanza di pochi anni, successivamente Luigi XIV fa realizzare lo stesso artista da Bernini un busto per sé. Altra coincidenza, ritengo non casuale, il fatto è che nel 1656, utilizzando alcuni spazi del Palazzo Comunale di Modena, l'architetto ducale, scenografo di corte, Gaspare Bigiarani, realizzi il famoso teatro ducale di Modena, un'opera grandiosa, tra l'altro con un anfiteatro in grado di contenere 3.000 spettatori e, a distanza di pochi anni, poco dopo la morte di Francesco Primo, nel 1659 e nel 1660, Luigi XIV fa realizzare il celebre teatro delle Tualerie dallo stesso architetto, Gaspare Bigiarani, quindi, come si vede, le coincidenze sono numerose. Per quello che riguarda Filippo IV, ecco, la cosa che più risulta evidente è come, a un certo momento, i grandi affrescatori del Palazzo Ducale di Sassuolo, il Colonna e il Mitelli, da Sassuolo e dal Ducato Estense, dove comunque erano a servizio di Francesco Primo, vengano chiamati a Madrid, proprio da Filippo IV, per continuare la loro opera. Ecco, questi sono alcuni degli esempi che dimostrano come, appunto, Francesco Primo d'Este fosse, probabilmente, e in maniera anche piuttosto consistente, un modello sociale, politico e culturale da imitare dall'Europa. Perfetto. A proposito d'arte, Francesco Primo è particolarmente noto per la copiosa ritratistica che di lui ci è pervenuta, primo fra tutti, dicevamo, il busto realizzato per lui da Gian Lorenzo Bernini. Ecco, quali valori l'artista, secondo lei, è riuscito ad esprimere in quest'opera? E come si è giunti alla sua realizzazione? Sì, di ritratti che vedono come protagonista Francesco Primo ce ne sono diversi, ce ne sono tanti. Ecco, ricordiamo quello mirabile del Velázquez, realizzato nel 1638-39, presente alla Galleria Estense di Modena. Ricordiamo altri grandi pittori che hanno ritratto Francesco Primo, quali il Guercino e tanti altri. Probabilmente, nel contesto di questa ritrattistica, l'opera più importante, senza comunque dimenticare anche le altre, è il busto del Bernini, che esprime dei valori assoluti. Ecco, nel senso che, diciamo che il Bernini sublima il concetto di principe, eroe, cristiano e guerriero in quest'opera in cui ritrae Francesco Primo. Quindi, va considerato come per gli storici dell'arte, questo busto che Bernini realizza nel 1651, sia il capolavoro l'apice dell'arte barocca assoluta. Quindi il più bel esempio realizzato nel contesto del barocco. E questo per più di un critico d'arte, per diversi critici d'arte c'è questa considerazione di questo busto. Ecco, il busto, tra l'altro, fu realizzato in maniera, per certi versi, particolare, nel senso che Bernini non ebbe mai modo di vedere di persona Francesco Primo, per tutta una serie di questioni politiche di convenienza, per cui Francesco Primo non si recò mai a Roma dove Bernini operava. e utilizzò un quadro, prevalentemente un quadro delle Susterman, un noto pittore fiammingo dell'epoca, e le informazioni che su Francesco Primo vennero forniti al Bernini da parte del fratello di Francesco Primo, cioè il cardinale Rinaldo d'Este. Questo fatto è un fatto che appunto destra interesse e curiosità, visto e considerato che appunto questo è il capolavoro per tanti critici dell'arte barocca. Insomma, è veramente curioso il fatto che sia stato realizzato senza che Bernini abbia visto direttamente Francesco Primo. Un'altra cosa importante relativa al busto del Bernini è costituita dal fatto che questo busto venne pagato da Francesco Primo a Bernini con l'ingente somma di 3.000 scudi, che di fatto è la stessa identica somma con la quale il Papa retribuì Bernini stesso per la realizzazione della famosa fontana dei quattro fiumi in piazza Navona a Roma. Qual è stata l'eredità di Francesco Primo ai suoi successori e quali fra questi si sono maggiormente rifatti al suo esempio? Beh, Francesco Primo sicuramente ai suoi successori discendenti, i vari duchi d'Este che sono venuti dopo di lui, ha lasciato sicuramente uno spirito di grande ambizione che lo contraddistingueva, un senso di rettitudine morale, un gusto per il bello e per l'arte importante. Non dimentichiamoci che tra l'altro è il creatore di fatto della Galleria Estense di Modena, un grosso contributo adatto alla cultura sia per Modena che per lo Stato Estense e tante altre cose. Tra i suoi successori discendenti che più l'hanno preso come esempio, io nominerei sicuramente per esempio la duchessa Laura Martinozzi, moglie di Alfonso IV, il figlio di Francesco Primo, che rimase precocemente vedova per la morte in giovane età di Alfonso IV. Laura Martinozzi, per esempio, si adoperò molto per le opere urbanistiche relative alla capitale Modena e allo Stato Estense, un po' sulla scia lasciata da Francesco Primo. Poi ricorderei sicuramente Maria Beatrice d'Este che era una convinta cattolica così come lo era Francesco Primo d'Este, suo nonno, che tra l'altro diede grande lustro sia a Francesco Primo che a tutta la famiglia d'Este per il fatto che divenne regina d'Inghilterra, fu l'unica italiana di sempre, tra l'altro, a diventare regina d'Inghilterra con il soprannome di Mary of Modena. Inoltre non dimenticherei certamente un'altra figura molto importante tra i discendenti di Francesco Primo, il nipote duca Francesco III d'Este che con il nonno aveva sicuramente in comune l'ambizione, tra l'altro acquisì il ducato di Masse Carrara ampliando il ducato Estense, fu promotore di riforme assolutamente rilevanti e importanti, riforma urbanistica, giudiziaria, sanitaria, culturale per Modena e lo Stato Estense e poi anche altri discendenti che comunque si inserirono sicuramente nel suo volco lasciato da Francesco Primo d'Este che sicuramente ricordarono nelle loro opere ciò che aveva fatto il loro predecessore. Come i più grandi sovrani del suo tempo, Francesco Primo ha inaugurato una serie di opere pubbliche e private allo scopo di elevare il prestigio dei suoi domini. Quali furono le più rilevanti? Beh, le opere pubbliche e private per elevare il prestigio dei suoi domini e per elevare anche il prestigio della sua stessa politica nazionale e internazionale, Francesco Primo ne fece parecchie. Sicuramente non possiamo non nominare il Palazzo Ducale di Modena, il Palazzo Ducale di Sassuolo, il Santuario di Fiorano iniziati attorno al 1634 per opera dell'architetto romano Bartolomeo Avanzini e di altri collaboratori. Poi, importantissima, una cosa che tra l'altro purtroppo adesso non possiamo più osservare, fu la cittadella militare, la cittadella militare disegnata e progettata e completata nel 1642 grazie all'architetto piemontese Carlo Castellamonte, cittadella militare che per il tempo, per quel periodo, fu considerato un autentico modello per l'intera Europa, ammirata proprio da tutta l'Europa, proprio per la sua qualità architettonica. Poi sicuramente vanno sottolineate le tante chiese, i tanti palazzi che Francesco Primo fece costruire a Modena, a Reggio Emilia, a Carpi, in Garfagnana e in altri luoghi del Ducato Estense. E poi vorrei riprendere ancora quel teatro al quale avevo fatto riferimento prima, quello che nel 1656 Gaspare Vigarani, suo disegno dell'architetto e scenografo di corte Gaspare Vigarani, venne realizzato vicino al Duomo di Modena, utilizzando gli ambienti del palazzo comunale. Un'opera così grandiosa, con un anfiteatro così ampio, che poteva, ripeto, contenere 3.000 persone, che tra l'altro, appunto, ispirò e non poco Luigi XIV di Francia per la realizzazione del celebre teatro delle Tollerie, che venne realizzato pochi anni dopo, 1659-1660, poco dopo la morte di Francesco Primo, che avviene nel 1658 da parte dello stesso architetto Vigarani. Per quello che riguarda tutte queste opere, ecco, sicuramente va considerato come esse furono determinanti e decisive per aumentare la grandezza di Francesco Primo d'Este. Ringraziamo Carlo Previdi per averci concesso questa intervista e per aver tratteggiato gli aspetti di questo Sorano così emblematico. Ricordiamo ancora l'uscita del suo ultimo libro, Francesco Primo d'Este, il principe eroe, edito del Fiorino. Grazie a tutti. Grazie a tutti.